Giornate europee del patrimonio, l'Italia partecipa aprendo i musei, le aree archeologiche e i luoghi d'arte statali sabato fino a sera inoltrata al costo simbolico di un caffè. In una grande festa della cultura appunto voluta dal ministro Franceschini che ha disposto che in due occasioni l'anno nella Notte europea dei musei che è il 17 maggio e il 20 appunto di settembre in occasione Giornate europee del patrimonio tutti i musei saranno eccezionalmente aperti al prezzo simbolico di un euro. A questa iniziativa del ministero ha aderito anche l'Anci però e quindi sarà una vera festa della cultura. Il ministro Franceschini ha anche voluto l'apertura gratuita di tutti i musei la prima domenica di ogni mese, un'occasione per avvicinarsi al nostro patrimonio culturale. Sono soprattutto i giovani quelli che vorremmo nei nostri musei e stiamo constatando che la prima domenica del mese vede incrementare il numero dei visitatori nei nostri musei il che vuol dire che sta diventando una vera festa delle famiglie in qualche modo che si recano nel museo. Tornando a sabato quali iniziative state organizzando? In tutti i musei ci sono visite guidate ma oltre alle visite guidate in molti luoghi ci sono anche spettacoli teatrali.